Buongiorno. Ci troviamo in signor Franco, come sta? Per il momento bene, spero di continuare così. E' emozionato? Ah, poiché ho menzionato, penso un po' a questo intervento, che è una cosa nuova. Come mai ha deciso di sottoporsi all'intervento? Perché ormai sono rimasto poco denti e invece di fare una dentiera mobile, ho pensato a una dentiera fisca. Spero di trovarmi bene e di continuare a poterla sfruttare almeno un po'. Cosa vorrebbe ottenere alla fine? Di poter mangiare bene e di avere una bocca presentabile, così, perché quando si apre, si parla, avere una bocca in condizioni valide. Siamo giunti alla fine dell'intervento, signor Franco, come sta? Il momento sto bene, mi sento bene, andiamo a continuare così. Che cosa ha pensato quando si è guardato allo specchio per la prima volta? Eh, pensavo che ai miei non c'è differenza. Come si è trovato con il dottore Enrico Lama? Tutto bene, uno studio perfetto, personale, perfetto, gentile, non c'è niente da dire. Come è venuta a conoscenza degli studi dentistici Lama? Mio figlio, i suoi ragazzi vengono qui e gli ha fatto gli apparecchi per i denti. L'ho avuto fiducia vedendo loro, così sono venuto qui e faccio i complimenti a tutto il personale. Figlierebbe questo tipo di intervento? Magari vorrebbe farselo un po' di paura? Gli ottantenni di non avere paura e di farlo, cambia completamente la vita. Grazie mille Franco, un bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. Grazie a voi.